Ho elaborato una nuova formula che può fare la differenza Guardate qua Ecco, vediamo E se aggiungessimo e un po' di solidarietà Così, così la volevo Ma a questo punto, già che ci siamo E se invece... Pazienza, quanto basta Avete visto? Ma adesso... Dieci gocce di ascolto La formula della solidarietà Il volontariato Vuoi dare più valore alla tua vita? Fa il volontario Per fare la differenza Grazie a tutti 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 Grazie a tutti